Sono Gianfilippo, vengo da Livorno e andrò a Hessling in Germania. Con me porterò tanta determinazione, la mia passione per il rugby e tanta simpatia, perché in Germania mi sa che ne hanno bisogno. Ciao, mi chiamo Andrea, vengo da Bologna e sono diretto a Praga e Repubblica Ceca. Nella mia valigia porterò la canzone Io ci sarò degli 883, il film La vita è bella, tanta voglia di conoscere e di scoprire, la mia famiglia e i miei amici. Sono Federica e vengo da Copertino in provincia di Lecce, il magico Salento, e vado a Valencia, in Spagna. Quello che porto nella mia valigia è la canzone di Depeche Mode, è il film La teoria del tutto, che mi dà la voglia di conoscere sempre nuove cose. Sono Francesco, vengo da Palermo e sono diretto in Olanda, nella fredda Nimega. Con me porterò il calore della mia terra, Sicilia. La canzone Drops of Jupiter, Train. Ciao, sono Mario, vengo da Napoli e sto per partire per l'Olanda, per Leiden. Con me non potrà mancare sicuramente la mia canzone preferita, meraviglioso. Tutti i miei amici che mi hanno aiutato a essere quello che sono, a essere così spontaneo e aperto verso tutti. Tornerò indietro con esperienza positiva, migliore conoscenza della lingua tedesca e molta grinta per le mie sfide successive. Un network di amicizie allargato, nessun esame e diversi punti di vista del mondo. La realizzazione di un sogno, perché ho sempre voluto andare in Erasmus e in particolare in Olanda. Tanto spagnolo, tanti tanti esami. Tanta voglia di laurearmi, tante nuove amicizie. La mia frase è Non sarai felice finché ti tormenterai perché un'altra è più felice. Fino a due ieri in Bedenienzi, io viaggio con un dente cieca. It seems impossible until it's done. La frase che mi rappresenta di più è un simolo, ragazzi. La frase che mi rappresenta è Stai senza pensiero. Ok ragazzi, stiamo per cominciare. Io vi seguirò da lontano sul sito che vedete tra queste due parentesi. E vi auguro buon'ottima raggi. Potere! Viene a me! Perousi! Tosjariti! Tosjariti!